ciao e bentrovati di nuovo su macraris per la serie di video tutorial se introduzione all'automazione in excel con le macro sono aristide l'apa nella lezione precedente abbiamo introdotto il concetto del loop abbiamo visto nello specifico la sintassi di base del do while e del do until loop questa lezione serve come esercizio pratico per prendere dimestichezza con questo nuovo concetto tre piccole azioni per sostenere macraris e per noi di grande valore metti un mi piace registrati al canale e attiva il campanellino per essere avvisato quando postiamo nuovi video grazie andiamo a fare questo tipo di esercizio integrando le istruzioni che abbiamo visto con la sintassi di base consideriamo questa base di dati abbiamo in colonna c la codifica tipo f per frutta e v per verdura che dobbiamo inserire in corrispondenza della colonna di per tipo abbiamo qui già l'istruzione per poter saltare da una riga all'altra active cell punto offset una per riga una riga alla volta con questo loop andiamo ad integrare questo prima di fare questo definiamo una variabile di tipo a string dim tipo as string andiamo all'interno nostro do while loop e qui inseriamo una condizione if vogliamo testare questo valore ma dobbiamo testare questo valore in corrispondenza della cella attiva che è questa per cui diciamo if active cell punto in considerazione di questa cella facciamo un offset di quanto zero riga e qui di colonna viricola pardon di colonna abbiamo 1 2 inseriamo qui 2 chiudiamo punto value e vogliamo testare lì se è uguale a f il primo valore then per continuare il nostro if e qui and if prima qui all'interno dobbiamo inserire le condizioni se vero e poi else che avremo qui se falso ok ora qui ho inserito f maiuscolo perché è importante qui maiuscolo e minuscolo nel caso in cui non ti vuoi preoccupare del maiuscolo minuscolo in questa parte a destra dovresti andare a trasformare tutto questo con la funzione l case per rendere minuscolo e u case per rendere maiuscolo qualche volta mi è tornato utile inserisco qui per farti vedere l case richiede come argomento string e qui chiudiamo ok e a questo punto dobbiamo andare qui e mettere f a prescindere adesso che sia maiuscolo minuscolo qui siamo a posto se così è dobbiamo andare a dire che alla variabile tipo diamo il valore di frutta e a questo punto dobbiamo anche inserire qui il valore di frutta perciò andiamo a copiare tutto questo ok la mettiamo qui perfetto e qui sarà 123 quindi dobbiamo inserire il valore qui 3 punto value sarà uguale a quello che abbiamo messo qui in tipo se non è così vuol dire che prendiamo tutto questo e inseriamo qui tipo qui sarà verdura e andiamo a scrivere verdura e qui active cell punto offset 0 3 punto value semplicemente qui tipo perché qui abbiamo dato tipo verdura perfetto quando usciamo dall'end if avremo terminato con questa riga il nostro loop eseguirà anche questo perciò andremo alla riga successiva loop ritorneremo qui sopra e inseriremo gli altri elementi se ho fatto tutto correttamente andiamo a provare con f8 vediamo se torna worksheet activate selezioniamo 2.1 do while e qui entriamo nel nostro loop andiamo a valutare questo selezioni tutto questo e qui vediamo se ci da il valore no non è abbastanza gentile pazienza if l case qui ci aspettiamo che ci da f che questo è vero ok entriamo qui tipo diventa frutta e qui abbiamo il valore and if va qui salta alla riga successiva ok e rifà di nuovo il loop ok procede qui dovremmo procede qui metto un punto di interruzione non la metto qui perché se la metto qui si ferma ogni volta metto qui il punto di interruzione f5 e qui abbiamo tutti i valori inseriti e qui abbiamo terminato il nostro loop non necessariamente la cosa più efficiente da fare sicuramente per una banalità del genere non ci serve neanche andare in vba ma per la nostra praticità torna utile vediamo come integrare ulteriormente questo esempio vogliamo in corrispondenza di ogni riga che avremo valutato di inserire nel relativo foglio qui frutta oppure verdura per fare questo esco ripristino qui un attimino andiamo in corrispondenza del nostro codice e qui saremo in corrispondenza di questo e qui diremo che dopo aver inserito il valore qui deve copiare tutto questo valore e inserire nel foglio appropriato perciò andiamo a dire che qui considereremo range active cell punto value virgola e qui avremo active cell punto value di nuovo vado a copiare questo active cell punto value punto and punto qui non punto apriamo qui xl su e control maiuscolo xl su right vediamo se non lo da perfetto ok qui chiudo la parentesi punto copi ok andiamo in corrispondenza della seconda visto che abbiamo fatto copi dobbiamo selezionare il foglio all'interno del quale inserire l'informazione ricuperiamo worksheets control maiuscola worksheets qui andiamo ad inserire il valore il nome di frutta in questo caso ma visto che frutta viene contenuta all'interno di questa variabile e questa all'interno della variabile utilizziamo direttamente la variabile e non il nome perciò andiamo qui e mettiamo worksheets e qui inserisco tipo worksheets tipo punto activate e in corrispondenza di worksheets activate nella cella attiva inseriamo active cell punto paste special come metodo e quello che facciamo per poter inserire poi l'altro dato successivamente diciamo nel foglio attivo active cell punto offset e qui abbiamo uno zero e qui punto select ok avrei potuto copiare anche questo qui qua sotto abbiamo questo elemento abbiamo questo elemento e ora dovrei andare a ripetere lo stesso elemento qui dentro ma da quello che vedo non è necessario perché abbiamo già inserito tutte le informazioni quando usciamo da questo end if siamo ancora sulla riga corrispondente a quella su cui abbiamo fatto queste istruzioni per cui posso andare a togliere questo control x e andare a posizionarla prima di poter andare sulla riga successiva quindi la posso mettere addirittura qui all'esterno dell'end if andiamo ad eseguire questo riga per riga per vedere se ho fatto le cose correttamente f8 scusami solo un momento qui usciamo dal loop quando usciamo dal loop vogliamo riattivare il nostro foglio worksheet vba loop perché lì deve procedere quindi vado a copiare questo vado in corrispondenza di questo e qui prima di poter passare alla rega successiva visto che qui siamo ancora all'interno di questo foglio dobbiamo ritornare al foglio originale inserisco questo activate a quel punto scendiamo di 1 e riprendiamo il nostro loop andiamo ad eseguire questo vediamo se tornano i conti f8 riga per riga ok selezioniamo questa cella perfetto andiamo a valutare come prima verrà inserito tipo frutta ok perfetto e qui saltiamo a end if ora siamo sempre in corrispondenza di questa riga dobbiamo copiare i valori copiamo abbiamo qui un errore devo fare un piccolo debug che cosa è successo ok credo di aver capito quello che è successo qui ho inserito active cell punto value ed è active cell qui ho inserito active cell punto value ok dovrà essere a posto adesso il debug serve anche per questo perfetto ora andiamo ad eseguire questo copy f8 andato bene questa volta qui andiamo in worksheet tipo activate qui inseriamo il dato active cell punto paste special abbiamo inserito il dato andiamo alla riga successiva così quando avremo il nuovo dato dovremo a inserire qui ritorniamo al nostro foglio di partenza e a questo punto visto che abbiamo terminato possiamo scendere di una qui hai notato questi dodol che sono ancora attivi per disattivare quelli quello che puoi utilizzare è questo codice application punto cut copy mode e qui mettiamo false ok se qui ritorno qui sopra ed eseguo nuovamente avremo che è scomparso e questo continuerà a farlo fino alla fine andiamo a vedere per verdura qui far attenzione quando facciamo i debug sono ritornato sopra ad applicare questo qui ho active cell punto offset di una riga la cella successiva la cella successiva era già stata selezionata perciò saltiamo lo spostamento ok e il nostro loop può ripartire ok qui sarà verdura ok entriamo cambiamo il valore and if andiamo a selezionare tutta la riga ok in modo dinamico selezioniamo verdura e notare qui il fatto che abbiamo utilizzato variabile e il nome del foglio contiene lo stesso valore diventa molto più comodo con le variabili ok inseriamo qui il dato selezioniamo lì ritorniamo al foglio di partenza e possiamo lanciare il nostro loop quindi tolgo qui il punto di interruzione f5 se hai notato quel veloce cambio di schermata durante l'esecuzione è possibile annulare quell'effetto e rendere l'esecuzione del codice più veloce con application punto screen updating uguale false ok poi dovrai ricordarti quando la macro è terminata di dire di nuovo application punto screen updating uguale true ti ringrazio per l'attenzione e a presto tre piccole azioni per sostenere Macraris e per noi di grande valore metti un mi piace registrati al canale e attiva il campanellino per essere avvisato quando postiamo nuovi video grazie